Buongiorno! Ma ciao! Questa è carina qui a terra, che fa? Non vuoi il caffè? Ho trovato una cosa che non abbiamo in comune, lei non beve il caffè. Vabbè, sei ordinato, dai! Ma io posso aspettarti tre ore mentre ti prepari, ti cambi costume? Dai, perché tu l'hai fatto prima, racconta la gente, perché ti sei cambiata! Ma io posso aspettare tre ore così? Ti ho aspettato, in calcio tuo padre! Ragazzi, in tanti che ve l'avete chiesta, questa è l'ora del Sondrio, da Serie A. Ringraziamo Digital Via Rezzo, Marco Vagueggi, numero uno. Vamos! E dopo Alessio Falsone che sta benissimo col Sondrio, contrapposizione del tutto casuale, Nita Olivieri è in vacanza a Ponza, sta benissimo sta ragazza, veramente, lei è sempre abbronzata o no, è sempre bellissima. Poi chiudiamo il video con Mirko Lunetti, mi chiedete dov'è? È Cala Gym, foto del giorno, ci vediamo al prossimo video, un bacio, ciao!